Ciao ragazzi, domenica 14 aprile, benvenuti a un crimine al giorno, il crimine di oggi, un crimine storico abbastanza noto ma determinante durante il corso della cosiddetta guerra civile, guerra di secessione americana e riguarda un personaggio che fa il paio con quella che è stata un assassino di presidente che sarebbe poi accaduto molti anni dopo, teoricamente con motivazioni decisamente differenti. Oggi parliamo, 14 aprile, dell'assassinio di Abramo Lincoln, personaggio che aveva, tra virgolette, proposto, interpretato e imposto la cosiddetta democrazia dal popolo per il popolo, attraverso quello che era il governo dell'Unione che si era opposta, insomma, alla secessione e a quelle che erano le volontà degli stati confederati indipendentemente da discorsi relativi alla schiavitù e all'utilizzo della manodopera che sicuramente non era semplicemente, come dire, al servizio degli stati confederati nel panorama globale di quella che era l'economia degli stati uniti, ma venendo al punto, il 14 aprile ecco la scheda di oggi, si tratta della serata del 14 aprile attorno alle 22.30, ci troviamo al teatro Ford nella città di Washington degli stati uniti, l'anno è il 1865 e il presidente Lincoln era in compagnia della moglie per il programma della commedia musicale Our American Cousin di Tom Taylor ed era nel suo palco personale ma non era stato accompagnato dal generale Grant e non era stato accompagnato neanche da guardie del corpo, era presente nel suo palco insieme alla moglie Mary Todd Lincoln e ai due amici Clara Harris e HR Redbone e di colpo praticamente appena entrato nel palco il palco stesso fu invaso da un militante suddista ed ex attore John Wills Booth con in mano una pistola Derringer, un'arma tra l'altro molto molto particolare e rara e come dire di valore anche storico una pistola Derringer a canna corta, colpo singolo calibro 44, gliela pose praticamente alla base della nuca e fece fuoco un singolo fuoco un singolo colpo che gli trapassò sostanzialmente tutto il cranio e in realtà non lo uccise sul colpo ma lo mandò in coma John Wills Booth è riuscito a saltare oltre il palco in cui ha commesso l'onicidio qualcuno dice che ha urlato sic sempre tirannis così per sempre ai tiranni dal latino oppure semplicemente sic sempre oppure ancora un urlo di liberazione per quello che era il sud, per quello che era insomma la compagine suddista sic sempre tirannis è una frase che è stata attribuita a Bruto poco prima dell'uccisione di Cesare ai tempi dell'impero romano, frase tra l'altro non completamente confermata, mai per certo confermata ma che è entrata tra l'altro all'interno del simbolo della Virginia come rappresentazione della giustizia sopra la tirannia e che ha teoricamente come dire è stato un particolare degno di nota perché Timothy McVeigh terrorista che ha fatto uno dei più gravi forse il più grave atto di terrorismo nella storia degli Stati Uniti ovvero la distruzione degli uffici federali a Oklahoma City pareva avesse indossato anche lui una maglietta con Lincoln ucciso e siglato come dire con sic sempre tirannis a rappresentare un po' un discorso di ribellione nei confronti di un governo centrale e che tendeva ad accentrare le volontà insomma del paese in mani teoricamente democratiche ma che non rispecchiavano evidentemente la volontà di tutto il paese soprattutto in questo caso degli stati confederati l'idea era quella di decapitare il governo dell'Unione riuscì momentaneamente a scappare tra l'altro brandendo un coltello molto vistoso e scappare a cavallo ma fu rintracciato il 26 aprile quindi 12 giorni dopo in Virginia all'interno di un pienile di una fattoria e ucciso assieme ad un complice Abraham Lincoln muore invece il giorno dopo dopo parecchie ore di coma esattamente alle 7 e 22 del 15 aprile e viene insomma a mancare una guida che dal punto di vista globale dell'instaurazione di quella che viene definita la democrazia americana viene considerata ancora oggi una figura di tutto rispetto con un crimine al giorno per il 14 aprile abbiamo finito qua io vi ricordo ovviamente che dopo domani sera martedì inizia la nuova trasmissione di cinema con me e alessandro ponziani cinepatia tutto il cinema definitivo su crack apart e giovedì come sempre abbiamo un nuovo tocco di macabro in compagnia anche del pellegrino macabro alla botteguccia dei sigilli e parte e parleremo di btk va in torture kill uno dei criminali più volatili e più particolari e terrificanti della storia del serial killing io con criminal giorno vi saluto e ci vediamo domani con un'altra piccola pillola di crimine ciao ciao